mai come oggi tra ieri sera e oggi ho ricevuto degli auguri da persone che non sentivo da 30 anni 35 anni uno prima da 38 anni sono 38 anni prima le voci erano squillanti a carlo che facciamo piano la vespa andiamo a ostia adesso è pronto carlo ciao sono federico ti ricordi a terza abbia collegio nazareno mi è capitato al numero 2 che mi tengo stretto segreto ti volevo fare tanti auguri a te e i tuoi cari di buon anno di buon natale e serene feste sentiamoci presto carlo sei un grandissimo carlo sono tutte le battute dei film e due a memoria carlo ciao tanti auguri ancora carlo ciao 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 l'altro pronto carlo su alessandro te ricordi a lettere facciamo la lezione con professor romeo te ricordi mortasci sua te ricordi gato ricordi senti e niente bisogna che ci vediamo qua sono passati troppi anni e sentia pure il rumore della dentiera quindi sono passati per tanti anni quindi bisogna che ci vediamo se andava a far magari lo spago una pizza con lui di trovare mi sono messo a paura ho detto ma neanche parlo pure io così adesso dio 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 comunque buon natale a natale a tutti voi con tanto tanto affetto lo voglio bene voglio veramente bene un bacione a tutti